Il primo buongiorno della giornata è quello che viene da Fano TV, bentrovati quindi alla rassegna stampa della nostra emittente. Oggi è giovedì 11 maggio 2023 e come al solito iniziamo con l'almanacco del giorno. Vediamo chi si festeggia oggi, vediamo qui un cappuccino, è Sant'Ignazio da Laconi che visse nel XVIII secolo. Laconi è una località della Sardegna vicino alle montagne del Genargentu. Fu frate cappuccino come abbiamo detto, predicò il Vangelo negli ambienti più umili e malfamati. Bisaccia in spalla visse della carità della gente che ricambiò con il dono della sua parola e della sua amicizia. Sant'Ignazio da Laconi, un frate semplice ma un frate edificante, un esempio da seguire. Le previsioni del tempo, cambiamo la grafica e vediamo come il tempo nelle Marche si mantiene ancora oggi instabile con rovesci e temporali nelle ore pomeridiane, localmente anche forti, temperature stazionarie al di sotto della norma. Siamo scesi un pochino rispetto ai giorni scorsi. Dai 20 gradi le massime sono scese a 17. Le minime si attestano invece sui 13 gradi. I venti sulle coste provengono da una direzione di ovest-nord-ovest, mentre nell'interno direttamente da ovest il mare è mosso. Abbiamo una vivacità particolare per quanto riguarda le spiagge. Ed ora vediamo l'apertura. Oggi iniziamo dal resto del Carlino. Ecco qua il giornale sulla pagina di Fano. Anche il Corriere Adriatico apre sulla stessa notizia. Abbiamo in evidenza i funerali di Tommaso della Dora che ieri si sono svolti con grande compianto nella chiesa di Santa Maria Goretti a Sant'Orso, il quartiere dove la famiglia, dove lo stesso Tommaso viveva. Sulle note di Buonanotte Fiorellino, il doloroso addio a Tommaso della Dora. Veramente è stata commovente la cerimonia di ieri nella chiesa di Santa Maria Goretti, soprattutto quando hanno risuonato queste note cantate da Tommaso della Dora con la sua chitarra. Come un addio, una buonanotte, come se lui andasse verso un lungo sonno dal quale purtroppo non si risveglierà. E poi soprattutto le parole dei bambini, quei bambini che l'hanno conosciuto. Tommaso lavorava anche a scuola, prima voglio dire sia nel liceo artistico, poi anche nei bambini delle scuole elementari e le vocine di questi ragazzi che hanno ricordato il suo sorriso, il suo amore, la sua abnegazione verso l'impegno didattico è stato veramente edificante. Tanti poi sono stati gli interventi che dopo la fine, che alla fine della messa hanno ricordato il defunto. Ci sono stati i compagni di partito, ci sono stati gli insegnanti, come dicevo, ci sono stati gli amici, insomma tante persone che hanno voluto ricordare i vari aspetti dell'attività di Tommaso della Dora. Vediamo anche come il Corriere Adriatico riporta la notizia, lacrime e rimpianto per Tommaso, il fratello sapeva aiutare gli altri, il fratello Francesco. In 500, c'è chi dice 400, 500, insomma adesso il numero non ha importanza, comunque la chiesa era piena e c'era anche tanta gente al di fuori della chiesa stessa, nonostante la giornata di pioggia. In 500 a Sant'Orso, per l'addio a della Dora, la chiesa non contiene la folla, tante le testimonianze commosse, soprattutto quella della Giacomoni, Agnese Giacomoni, capogruppo del Partito Democratico, che durante il rito ha letto le preghiere dei fedeli, con voce rotta dalla emozione, e soprattutto quella di Sara Cucchiarini, che ha letto dapprima un messaggio del sindaco Massimo Seri, che ieri era assente perché si trova in Turchia nel corso di una trasferta, che era stata programmata da tempo, in sua vece è intervenuta appunto la Cucchiarini, che ha letto un messaggio, parole veramente encomiabili nei confronti di Tommaso della Dora, quella del sindaco. E poi la Cucchiarini ha continuato a dire delle sue parole, e queste sono state veramente rotte dall'emozione e dal pianto. Insomma, una cerimonia molto toccante quella che si è organizzata nella giornata di ieri. Il rito è stato celebrato dal parroco di Sant'Orso Giuseppe Marini, insieme al parroco di Rosciano Federico Tocchini e i due sacerdoti, insomma, che hanno un po' caratterizzato la vita di Tommaso della Dora. Continuiamo l'esame delle notizie sul resto del Carlino. Vediamo un articolo che riguarda le truffe nei confronti degli anziani. Fate attenzione, perché questo sistema si ripete, nonostante i continui appelli, di restare in guardia e di stare attenti, di individuare quali sono veramente le cose vere e quelle che sono false. Truffa del falso incidente. Anziani nel Mirino ne parla, ne parla in maniera personale la presidente della Confcommercio panese, Barbara Marcolini. Il monito di Barbara Marcolini della Confcommercio è successo anche a mia suocera. I casi sono in aumento. State attenti. Ebbene, il modus operandi è sempre lo stesso. Giunge una telefonata. Signora, sua figlia è stata implicata in un incidente. Le sue responsabilità sono gravi. Per evitare situazioni molto penose, servono dei soldi. Arriverà un incaricato a casa sua a ritirarli. La signora che ha ricevuto questa telefonata era molto molto preoccupata. Ne ha parlato appunto con la nuora, ma la nuora ha capito subito che si trattava di una truffa e quindi ha detto di non aprire a nessuno inequivocabilmente per quanto riguarda l'abitazione e quindi di non pagare alcuna somma. Nella stessa mattinata i truffatori avrebbero tentato di mettere a segno un altro colpo sempre ai danni di un anziano e con la stessa tecnica. In questo secondo caso avrebbero preso di mira un uomo e gli avrebbero chiesto 6.000 euro necessari ad aiutare la figlia. Anche questa era una cosa falsa. Quindi attenzione, quando ricevete queste telefonate non datele ascolto perché è una truffa. Un articolo di Spalla sul resto del Carlino. Morì nello schianto in scooter, l'automobilista ha processo. La tragedia si verificò due anni fa allo svincolo di Rosciano. Per quella morte è stato accusato di omicidio stradale il conducente dell'auto che ha investito la vittima. Si tratta di un 28enne originario di Milano, si chiama Alberto Alabò, che ieri ha chiesto di poter svolgere lavori socialmente utili per poter evitare il processo. Ora si attende la sentenza da parte del giudice che dovrà pronunciarsi e se lo riterrà congru allora il 28enne potrà mettersi al servizio dell'ente individuato per così espiare quello che deve alla giustizia. Pressing su Sir Filippi per quanto riguarda la candidatura a prossimo sindaco di Fano ma lui proprio non ne vuole sapere. Preferisce continuare il suo lavoro in Regione e quindi disdegna la candidatura a sindaco di Fano. Non tutti fanno così, quindi occorre avere anche una certa oculatezza per scegliere il proprio futuro politico. Scompare dunque il nome di Sir Filippi nonostante che il segretario della Lega Alessandro Brandoni lo avesse proposto anche ufficialmente sulle pagine dei giornali. E allora che cosa dice il resto del Carlino? A questo punto torna in aunge la candidatura dell'assessore regionale Stefano Aguzzi che appartiene a Forza Italia ed è l'ex direttore generale del Comune Giuseppe De Leo alla guida della nuova lista civica. Quest'ultimo sembra abbia già pronti simbolo e candidati e pensate fanno la loro ricomparsa gli ex assessori Davide Rossi, Riccardo Severi e Renzo Rovinelli. Sono tutti personaggi che hanno fatto parte della storia politica di Fano che ora si sono messi da parte ma che potrebbero tornare a guidare la città, a guidare la cosa pubblica. Vediamo anche quello che si prepara per la prossima stagione turistica per garantire la sicurezza nel settore balneare. Salvataggio in spiaggia libera vincono i bagnini pesaresi. C'è stata solo un'offerta al bando che è stato emesso dall'amministrazione comunale. Si tratta di una associazione si tratta della Bagnining che è di Pesaro e quindi ha accettato le condizioni che ha così offerto l'amministrazione comunale. Le associazioni fanesi questa volta non hanno partecipato al bando forse non hanno il personale adatto come numero per svolgere questo incarico e forse nonostante l'aumento che c'è stato dall'amministrazione comunale nemmeno il compenso viene considerato molto congruo. Comunque ha vinto questa associazione pesarese abbiamo dovuto aumentare seppur di poco i soldi che daremo e abbiamo dovuto ridurre le torrette ha detto l'assessore Cristian Fanesi perché c'è il problema di trovare la gente che riuscisse a garantire il salvamento. Il costo è 100.000 euro a stagione e insomma il contratto è stato stipulato sarà stipulato per tre anni quindi è una cifra piuttosto ingente. nelle tasche del gestore del servizio andranno così circa 245.000 euro nei prossimi tre anni poco più di 80.000 euro a stagione quando l'anno scorso per l'affidamento diretto dell'associazione Incoming ne erano stati previsti 75.000 insomma non molti di più 5.000 euro in più per quest'anno per cercare di movimentare le offerte ma c'è stata solo una candidatura. Ed ora passiamo a Marotta passiamo a Marotta perché giunge alla fine dei conti quello che è accaduto nell'agosto del 2021 una rissa davanti alla discoteca a coltellatore patteggia. All'alba del 7 agosto 2021 si sfidarono due gruppi ferendo anche i carabinieri che erano intervenuti altri cinque sono finiti a processo due chiedono lavori utili. Ebbene è stata un'alba di sangue quella che è apparsa il 7 agosto di due anni fa un'alba di sangue in cui due gruppi italiani e albanesi da una parte africani dall'altra sono arrivati allo scontro ma uno scontro duro con mazze, spranghe coltelli addirittura una rissa molto molto violenta. Ebbene in questo ambito un 26enne albanese si tratta di Frank Gioni residente a Dancona ha colpito all'addome il 24enne senegalese Diallo Samba domiciliato a Tolontino. Nel caos di botte e violenza erano rimasti feriti anche i carabinieri intervenuti per sedare la rissa e l'auto di servizio era stata addirittura anche danneggiata ed ora tutto questo appunto giunge alla fine dei conti davanti al giudice. E poi c'è un articolo che riguarda Mondolfo e si parla di sanità casa della comunità progetto esecutivo ok la struttura con i fondi del PNRR diventerà un punto di riferimento importante di carattere socio-sanitario ma c'è la grande incognita del personale insomma poi è la regione che deve fornire tutto quello che serve per la gestione di questa struttura. L'ex ospedale Bartolini che era stato un presidio importante anche per l'immediato entroterra ebbene attualmente casa della salute ha compiuto un passo in avanti significativo per diventare una delle 29 case della comunità previste dalla regione Marche e dall'altro ieri dall'altro ieri la determina è del commissario dell'azienda sanitaria territoriale della nostra provincia Gilberto Gentili concernente l'approvazione appunto del progetto esecutivo e del relativo quadro economico verranno investiti 400 mila euro da fondi del PNRR così come abbiamo detto le bizze meteo danneggiano le api dimezzata la produzione di miele compromessa la fioritura della caccia ma si guarda con preoccupazione anche alle prossime settimane sono a rischio i millefiori il coriandolo e il girasole viaggio tra gli apicoltori del Val Cesano è un articolo questo interessante che dovrebbe così aumentare la sensibilità verso l'ambiente per tutelare la proliferazione delle api mezzo chilo di miele oggi costa dagli 10 11 euro al mercato è un pochino aumentato rispetto ai tempi passati ma come abbiamo detto le api sono di meno e producono di meno e questo veramente è un danno ambientale di notevole rilevanza ai genitori non serve solo il pediatra nasce un gruppo di sopporto nasce a San Lorenzo in campo l'idea ha detto il sindaco dell'Onti è quella di garantire ai neo genitori uno spazio protetto gestito da professionisti essere genitori è una cosa molto molto importante e non si improvvisa occorre prepararsi per questo grande evento che riserva la vita e quindi quello che si offre sono servizi che riguardano oltre agli assegni e l'aiuto finanziario che sono ovviamente fondamentali riguardano l'accesso diretto a informazioni a fondamentazioni che sono importanti appunto per acudire il bambino e poi anche il sostegno nelle scelte il confronto diretto tra pari il supporto emotivo e pratico nel postparto una rete perché le madri non si sentano soli e i padri possono riconoscere davvero il loro ruolo integrato con quello appunto delle mamme che ovviamente nei primi anni della nascita del loro figlio sono essenziali giriamo ancora la pagina vediamo Urbino a Urbino c'è stato un convegno per quanto riguarda le deviazioni degli studenti si è parlato spesso di droga ora si parla di alcol una sbronza un simulatore per prevenirla ed è una bella iniziativa questa assunta dalla università che oltre alla cultura si occupa anche del vivere bene dei suoi studenti l'Ateneo dunque in prima linea contro il pericolo alcol un convegno racconta gli effetti e annuncia collaborazioni per combattere il fenomeno e gli studenti di Urbino avranno anche a disposizione strumenti utili in arrivo anche altri per prevenire soprattutto le sbornie nei momenti in cui si si esalta e si superano le righe l'università di Urbino prima contro la droga poi contro il fumo ora contro l'alcol è veramente un quadro di interventi che abbraccia un po' tutte le attività extrascolastiche degli studenti ieri l'Ateneo Ducale ha proposto un convegno per parlare proprio degli effetti a cui questa condizione può portare e pensate il titolo è stato di CIS ovvero salute è uno simoro visto che CIS si fa anche quando si brinda con un calice in mano quindi CIS vuol dire diverse cose vuol dire salute ma in questo caso salute veramente quella del corpo quella che non fa male a tutti gli elementi e poi vediamo al furlo quello che è avvenuto grazie agli ambientalisti i quali hanno ripulito questo bellissimo paesaggio ambientale al furlo olio di gomito per i volontari il presidente della Lupus in Fabula Flavio Angelini ha dichiarato c'erano anche un frigorifero alcune casse pneumatici ma soprattutto tante bottiglie di plastica è veramente abbandonare queste cose in un ambiente come quello del furlo è veramente fare un dispetto a tutti coloro che amano la natura e che amano la nostra terra ed ora andiamo ad Urbino il rinascimento della sanità lo analizza un convegno il piano regionale e non solo nella relazione degli esperti si terrà domani nella residenza dei duchi alle 16.30 a cura dell'IOS Club cittadino patrocinato dal comune un convegno sul rinascimento culturale scientifico e umanistico promosso da Federico da Montefeltro nel palazzo ducale di Urbino quindi un convegno di carattere storico ma con addentellati alla nostra attualità e per quanto riguarda invece il giro d'Italia non ci sarà la maxiruota che è stata realizzata da lo scultore Sorace guardate che monumento l'aveva preparato per la tappa di sabato prossimo a Fossombrone quando arriverà il giro d'Italia ma ancora non si sono perfezionati i permessi per installarla lo scultore Sorace aveva pensato che sarebbe stata un'occasione per installare una sua opera che avrebbe valorizzato anche la cittadina di Fossombrone ma occorrerà ancora attendere i permessi della provincia l'ufficio tecnico del comune e del genio civile quindi in questo caso la burocrazia non è stata in sintonia con le necessità impellenti e appunto della tappa e intanto è in rampa di lancio la gara per la vetrina rosa più caratteristica e qui vediamo il sindaco Berloni con Varotti il direttore generale della provincia della Confcommercio sabato a Fossombrone quando arriverà il Giro d'Italia si farà anche una gara tra le vetrine più belle e verranno assegnati anche dei premi allora il premio per la migliore decorazione consiste in una targa ricordo e un buono per due persone in un ristorante a seconda e terzo classificata sarà consegnata una targa ricordo che potrà esporre anche per evidenziare questa sua cura alla città vediamo anche qualche notizia che riguarda Pesaro sul resto del Carlino dove si ritorna ancora sugli aumenti degli stipendi all'interno del CDA di Marche Multiservizi Belloni io e Ricci non conoscevamo le cifre degli aumenti ci sono ancora giustificazioni in merito a questa decisione che è stata assunta un po' così molto superficialmente ed ora c'è stata la marcia indietro e quindi quegli aumenti non ci saranno c'è un altro titolo che riguarda Margherita Pedinelli solidale con Pierotti per quanto riguarda quello che lui aveva detto sempre per quanto riguarda gli stipendi però insomma poteva fare diversamente e quindi Margherita stigmatizza il metodo piuttosto che la sostanza delle sue dichiarazioni Parco Trulla è l'amianto segnalato il rischio ma l'ERAP non ha soldi per fare la bonifica l'osserva Elisabetta Sacchi che è presidente della sezione pesarese dell'ONA l'ONA è l'associazione anzi l'osservatorio diciamo meglio nazionale amianto ebbene ci sono situazioni precarie quando l'amianto è precario molto pericoloso per la salute alle spalle dell'anfiteatro verde appena inaugurato dall'amministrazione comunale ci sono case popolari con i tetti dei casottini in amianto perfino rotti nella parte rivolta al parco però l'ERAP non ha soldi allora in questo caso cosa prevale prevale la salute o la situazione finanziaria ebbene è un punto interrogativo che lancia ovviamente Elisabetta Sacchi la quale stimola l'ERAP a trovare i fondi per bonificare questa situazione non poco pericolosa tiriamo ancora la pagina e vediamo come si parli del San Bartolo dove ci sono molti divieti e per il transito degli automezzi motorizzati ma ci sono anche molte infrazioni per cui pedoni e ciclisti non sono affatto al sicuro San Bartolo di vieti infranti assediati da auto e moto la protesta di chi cammina la domenica quando non dovrebbe esserci traffico eppure uno magari si sente libero di camminare in mezzo alla strada sapendo che le auto non possono passare invece si vede sfiorare da una auto in transito in maniera irregolare continue infrazioni nessuno controlla rischiamo di essere investiti dicono i pedoni e poi si è parlato di turismo a Pensaro si è parlato in un convegno che si è svolto all'hotel Excelsior per discutere di promozione del territorio e della città si parlava di turismo con Nardo Filippetti uno dei principali operatori che si occupa di questo settore e Filippetti non ha nascosto i suoi jacuzzi il comune deve fare di più ha detto l'operatore per promuovere il territorio l'imprenditore ha parlato a ruota libera nel convegno che c'è stato all'Excelsior il web marketing è carente nessuno sa che a Pesaro c'è il mare e beh insomma prezzi hotel schizofrenici insomma ci sono aumenti che non sarebbero giustificati addirittura che la gente non sappia dove Pesaro e che Pesaro è vicino al mare la situazione comincia a essere veramente difficile vediamo anche un'ultima notizia Mattia ucciso da un overdose hanno chiamato tardi soccorsi voglio giustizia di mio figlio è il dolore della madre della sorella del diciottenne trovato morto nel 2020 nella casa della fidanzata ed era l'ultima notizia chiudiamo i giornali per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi e io vi do appuntamento come sempre alle 7 di domani mattina buona giornata a risentirci a risentirci